Sì, perché è il tempo di preparare le cose Schiacci questo, o quello, guarda Ho il mantenuto, o questo Pronto? Sì, vai Ho detto, lì come animatore si ciula Si rischia di meno la vita Vada per l'animatore Aspetta, va sicuro Buona, dai Poi, ricchiù Presa Ma senza punto, si è conficcata